buona serata a tutti cari amici ben ritrovati dal vostro nicola de lucia ebbene curiosando un po tra i vari canali youtube di wrestling notando quello della all elite che è giunto manca ancora un paio di mesi ma più o meno ad un anno e mezzo dalla sua fondazione parliamo di nata l'alle liste ottobre 2018 che al momento conta su youtube 961 mila iscritti ma un totale complessivo di visualizzazioni pari a 96 mila 96 milioni 651 e 813 visualizzazioni calcolando la il totale delle visualizzazioni per gli iscritti quindi mediamente per ogni video ci sono 100 mila 574 e 207 visualizzazioni un numero sicuramente abbastanza buono diciamo vista un po la linea abbastanza giovane di questa federazione di questa federazione comunque credo di aver detto bene no perché una cifra a otto numeri parla parliamo di milioni quindi ovviamente agli iscritti il milioncino deve ancora arrivare ma anche quello anche quello lo raggiungerà quindi ribadiamo da ottobre 2018 ad oggi 961 mila iscritti total visualizzazioni al canale 96 milioni 651 e 813 una media a video di 100 mila 574 e 207 buonasera a tutti